Ovvero, convertere in questo caso, smaltisce i rifiuti organici, i rifiuti delle mense, i rifiuti della piattaforma petrolifera, tutto ciò senza necessità di separazione, eccetera. Così noi abbiamo tale, sì, come funziona questa tecnologia. Io qua chiuderei alle vostre domande. Grazie. Purtroppo un masquino è tornato in Italia, ma scusate la trama. Non tanti hanno scelto, lui è stato qua. Posso replicare? In realtà lui, sì, è una splendida persona innanzitutto, è italiano nel mondo. C'è il reparto del Kazakistan, la nostra azienda ha fatto più... Grazie. Grazie.